Buonasera, si ricorda di me? Lei è venuta al mio giornale per... Ah, si Prende qualcosa? Io? No Proprio niente? Grazie, non potrei Allora, è riuscita ad ottenere qualcosa da quel... Portografo? Si, altro che, per ora ce l'ho rimesso pure del mio Cinque chili Che ne ha fatto? Mi deve un po' spiegare questa storia Lascizzare Lei è proprio simpatica Perché non mi telefona? L'insegno è il mio diretto, pure a casa Rischi con molto ghiaccio Scusi, scusi tanto Almeno un sandwich con un gamberetto lo prendo Proprio non potrei No? No, assolutamente Oppure... beh, uno lo prendo Ah, il gamberetto nuota bene nel martini, permette? Un altro? Mi ci faccio pensare Ma sì, va Scusi, sa Sì, è piantata Almeno Quante ho fritta Basta così, guardi che le fa male Ho detto pieno, ma che è sordo? Ma è quarto E questo pollo? Ma che razza di buffet è questa? È un oro che ha chiesto un pollo Antonietta, venga, che c'è il conte che le vuole parlare È ben intentato